Buonasera e benvenuti al telegiornale di Canone 3 Toscana. Da Federalberghi Toscana arriva un endorsement convinta al nuovo testo unico sul turismo varato dalla giunta regionale. Siamo soddisfatti, afferma il presidente Daniele Barbetti, perché da tempo avevamo chiesto di dare la possibilità ai comuni di regolare il fenomeno degli affitti brevi. Ci racconta tutto il servizio di Marco Crimi. L'epoca della gestione amatoriale del sistema ricettivo toscano sta avvolgendo a termine, afferma il presidente della Federalberghi regionale Daniele Barbetti, che è convinto che il nuovo testo unico sul turismo varato dalla giunta possa porre un freno alla giungla degli affitti brevi. Da tempo l'associazione di categoria chiedeva di dare la possibilità ai comuni di regolamentare un fenomeno che, evidenzia Barbetti, presentava criticità. Quindi da questo punto di vista siamo certamente soddisfatti per il tentativo della regione Toscana di introdurre strumenti innovativi per gli antilocali. Non sono solo i nuovi limiti alle locazioni turistiche che piacciono al rappresentante degli albergatori, vanno bene anche quelle parti di norma, dove si dà la disponibilità agli hotel di associare alla propria gestione abitazioni civili, che sono nella disponibilità della struttura perché vicine, a patto che sia garantito all'ospite l'utilizzo dei servizi dell'albergo e lo stesso standard qualitativo. Ed ancora si guarda con favore la possibilità di mettere a disposizione alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working e la possibilità, da parte dei comuni, di individuare i cosiddetti alberghi scuola. Per quello che riguarda gli alberghi abbiamo apprezzato lo sforzo fatto in sede di proposta normativa di introdurre per gli alberghi delle modalità nuove per operare che riteniamo vadano a incentivare lo sviluppo e a qualificare il livello di accoglienza della ricettività in generale della regione toscana, quindi dal lato degli alberghi consentendo nuove forme di attività, di sviluppo e qualificando soprattutto la parte dei servizi. Da qui il messaggio alle amministrazioni del territorio. Quindi le amministrazioni locali secondo me dovranno incontrare ovviamente da un lato le associazioni di categoria, dall'altro i portatori di interessi della vita della città, quindi tutto quello che ruota attorno alla civile abitazione, al buon vivere le città e valutare se in quel territorio, in aree specifiche, perché non c'è nessun obbligo di applicare normative su tutta la scala del comune, ma magari su aree specifiche, è necessario o meno intervenire per regolamentare maggiormente eventuali disponibilità. I due giovani sciabolatori finiti sotto indagine per una presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una schermitrice di 17 anni che sarebbe avvenuta dentro un campus estivo a Chianciano Terme e si sono autosospesi dai loro prossimi incontri sportivi, lo riporta la Repubblica, la decisione sarebbe stata presa dai due dopo essersi confrontati con i propri maestri e legali. Fedescherma non aveva ritenuto di adottare alcun provvedimento, uno dei miei assistiti è ancora in forza, se si presenterà o meno, ma la pressione mediatica è troppo alta, spiega al quotidiano l'avvocato Matteo Starace che difende gli schermitori insieme agli avvocati Enrico De Martino e Giampaolo Dalsasso. Sul caso sono intervenuti anche i membri della Camera Penale di Siena-Arezzo, ancora una volta gli avvocati penalisti si trovano costretti a intervenire in difesa della presunzione di innocenza e contro il dilagante sentimento colpevolista che talvolta si cela dietro l'informazione giudiziaria, come se oltre da 70 anni di Costituzione fossero passati solo per noi, hanno scritto in una nota riferendosi ad alcuni titoli e rappresentazioni giornalistiche sulla vicenda. Fondazione MPS molto attiva su più fronti, fra i vari bandi l'ultimo in ordine cronologico è il Libeccio Vento d'Estate che riguarda la coprogettazione per campi solari e servizi educativi per l'estate ed è quindi rivolto ai giovani del territorio per una loro crescita sociale. Palazzo Fanzia Doni stanzia per questo progetto, 150 mila euro in servizio di Gennaro Groppo. Fondazione MPS molto attiva e su più fronti, Palazzo San Sedoni sta stanziando un bel po' di risorse in vari ambiti in favore del territorio senese. L'ultimo bando in ordine cronologico è il Libeccio Vento d'Estate, promosso in collaborazione con il partner tecnico Scintille.it, un avviso che si rivolge a enti del terzo settore e altre organizzazioni private senza scopo di lucro. La scadenza è fissata al 20 marzo. In questo caso si parla di coprogettazione per campi solari e servizi educativi per l'estate 2024, rivolti ai minori con l'obiettivo, scrivono da Palazzo San Sedoni, di consolidare e rafforzare ulteriormente la comunità di pratica territoriale. Per il bando Libeccio Vento d'Estate la fondazione MPS ha stanziato 150 mila euro che sono quindi indirizzati e rivolti alla crescita e allo sviluppo complessivo dei più giovani. Si rivolge agli enti no profit in generale, terzo settore, ma anche ad altri soggetti purché siano no profit. È per l'organizzazione delle attività estive per bambini o anche adolescenti e che quest'anno, come lo scorso anno per la verità, si avvale di un elemento estremamente importante che è quello della coprogettazione, cioè la fondazione Montepaschi oggi non è più soltanto un soggetto che eroga risorse, è un soggetto che si propone naturalmente con grande umiltà, ma anche con qualche elementi di professionalità molto significativi, si propone di animare la vita anche del territorio, della comunità, anche attraverso appunto sussidi di tipo organizzativo. La fondazione MPS attiva anche su altri fronti, ad esempio nella manutenzione di case popolari. Un tema caldo questo nel territorio sianese, vista la grande quantità di persone già in graduatoria che attendono un alloggio popolare. Per questo primo anno sono stati presentati progetti per una ventina di appartamenti, più o meno potrebbe essere questo lo standard, quindi in tre anni 50-60 appartamenti da rendere fruibili. Desertare il Consiglio Comunale è una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini ed è la più importante istituzione della città, l'atteggiamento di questa giunta e della sua maggioranza ha ben poco di democratico. Con queste parole Fabio Pacciani, presidente di Area Civica, commenta quanto è avvenuto durante l'ultimo Consiglio Comunale nel quale il Consigliere Civico aveva presentato una mozione nella quale chiedeva di attivare le procedure per l'annessione alla comunità energetica Siena Energia, avviare la programmazione degli impianti di energia rinnovabile e dare attuazione al piano operativo per consentire un'agevole installazione degli impianti fotovoltaici. al di fuori del centro storico e degli uffici vincolati nel servizio di Aldotani. Prima una premessa generale e anche a smentire quelle voci che lo vedrebbero avvicinarsi a una parte della maggioranza. Io non ho un interesse a legarmi a un gruppo partitico, il mio interesse è come ho fatto del resto che voi mi avete seguito un po' nella campagna elettorale, mi sembra di aver fatto sempre un ragionamento legato alla città. Per cui se una volta la maggioranza porta una cosa che ritengo che sia adatta, civica veramente e non rappresenti una parte solamente, io poterò con la maggioranza. Poi un giudizio su quanto accaduto due giorni fa in consiglio comunale. Fabio Pacciani, consigliere di area civica, si appresta a presentare una mozione per chiedere l'attivazione delle procedure per l'annessione alla comunità energetica Sienenergie. In aula però manca il numero legale e l'assemblea si chiude anzitempo. L'ex candidato sindaco rimane così a bocca asciutta e a posteriori non risparmia critiche all'amministrazione. Un messaggio di poca consistenza della maggioranza che ha paura o quantomeno forse non ha argomenti per confrontarsi su un tema molto basico, è quello della produzione di energia, della riconversione dell'energia in energie rinnovabili. Presa di posizione che per Pacciani è legata esclusivamente all'interesse dei cittadini. La mia apertura era un'apertura del tutto spontanea e oltretutto non prevedeva chissà quali future alleanze, chiedeva solamente una valutazione obiettiva di un tema di natura politica ma anche molto legata alla vita dei cittadini. Il parlamentare senese di Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti, ha lavoro per presentare una interrogazione al governo sul caso della carenza di organico al carcere di Santo Spirito. A riferirlo è stato il vicepresidente regionale del sindacato di polizia penitenziare SAPP Claudio Benzo che era presente stamani a un sit-in in protesta che si è tenuto di fuori della casa circondariale senese. Al momento gli effettivi dentro Santo Spirito sono 33 ma le unità previste dalla pianta organica sono invece 47, ha detto Benzo, ricordando poi come siano necessari almeno 57 agenti per garantire livelli minimi di sicurezza e diritti normativi. Il servizio di Catiuscia Vaselli. Da piazza Santo Spirito a Palazzo Montecitorio il caso della carenza di personale nel carcere di Siena arriva alla Camera a Roma con l'onorevole di Fratelli d'Italia Francesco Michelotti che sta limando un'interrogazione da presentare al governo. L'atto sarà sulla carenza sia di organico del personale di polizia penitenziaria e sia di quello civile con la richiesta di un interpello immediato per la struttura di Siena di unità in più da mandare urgentemente. A dirlo il vicepresidente regionale del sindacato di polizia penitenziaria SAPP Claudio Benzo che era presente stamani a un sit-in di protesta che si è tenuto al di fuori della casa circondariale. I sindacati avevano anche annunciato lo stato di agitazione del personale per denunciare la grave carenza di agenti. Al momento gli effettivi dentro Santo Spirito sono 33 ma le unità previste dalla pianta organica sono invece 47. Però per garantire livelli minimi di sicurezza e diritti normativi secondo i sindacati si dovrebbe andare anche oltre e raggiungere la cifra di 57 unità attive nel carcere di Siena. I detenuti, lo ricordiamo, sono 75. Ecco dunque che le organizzazioni si rivolgono direttamente al provveditorato toscano dell'amministrazione penitenziaria e al Ministero della Giustizia. In prima battuta chiediamo subito 5-6 unità da distaccare immediatamente in Regione per farci proseguire il lavoro giornaliero. Poi chiediamo un tavolo tecnico con i vertici del Ministero per oltre risanare la pianta organica attuale ma per definire una nuova pianta organica reale del carcere di Siena. Una petizione su change.org lanciata da alcuni commercianti della zona di Sant'Agostino per chiedere al Comune la riapertura del confronto in modo da trovare un punto d'incontro per i tavoli fuori dai locali. La servizio di Pietro Federici. L'indignazione e la frustrazione dei commercianti per l'occupazione del suolo pubblico è ormai risaputa. Il no dell'amministrazione comunale a far mettere i tavoli fuori dai locali, nonostante la proroga di un anno del governo, ha fatto andare su tutte le furie titolari ed uno di questi ha deciso di non restare in silenzio. Dritan Filai, proprietario del Bar Enea, proprio due giorni fa ha lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 300 firme. La richiesta è quella di avere una seconda chance per salvare uno spazio di socialità come Sant'Agostino. La prima tavola ci sono due firme e poi queste firme le manderemo anche al sito governativo. abbiamo parlato anche nella collega analista a Roma e aspettiamo che qualcuno viene qua a dargli una spiegazione, un motivo, la visibilità della strada, non è attaccato al bar e tutti i motivi che danno, secondo me, sono generali. Io sono vestivista, non credo che aggiungi un accordo perché solo quell'altro sono di prima, di noi ha avuto stessa risposta, stessa reazione. Oltre alle difficoltà che si trovano a dover affrontare molti commercianti, nel caso di Sant'Agostino la paura è quella che lo spazio possa degradare portando ad un mancato controllo e ad una mancata cura dello spazio. Perché questa piazza, ripeto, mi aveva dato una vita a questa piazza, a questa zona qui che era la zona più bella, dimedicata, lasciata indietro e non era neanche conosciuta. Io chiedo alla sindaca di sera di ripensarci perché non stiamo chiedendo un miracolo. Che dammi fino a dicembre, fammi lavorare. Poi magari da qui a dicembre ci sta che qualcosa cambierà. E sovvendenza, non è che chiediamo di aprire una finestra in un centro, cioè in un palazzo storico. Riteniamo che l'accordo Arselic e Whirlpool possa procedere a sancire il via libre definitivo dell'antitrust britannico nell'accordo tra le due multinazionali e Martin Coleman, presidente del pannello di esperti indipendenti che ha condotto l'indagine sull'intesa per l'antitrust britannico. Da Regno Unito arriva dunque l'ok finale all'operazione con cui Arselic acquisterà tramite una nuova società di cui deterrà il 75% tutti gli stabilimenti Whirlpool dell'area europea e medio orientale. Tra questi c'è anche lo stabilimento di Viale Toselli. La notizia, comunicata decisamente in anticipo, visto che si attendeva la risposta dell'antitrust il 26 di marzo, è stata commentata positivamente da FIOM, CGL e da FIM, CISL e di Siena. Le sigle sindacali sono tornate a chiedere chiarezza sul futuro dell'impianto senese. Al Ministero delle Imprese è stato chiesto di convocare un tavolo in modo da avere da Arselic il risposto sul piano industriale e occupazionale della struttura dove lavorano 300 persone. Adesso lo sport, le vittorie per il basket senese nel turno infrasettimana. Vittoria al Cardiopalma per la Vismederi, Costone e Siena che al pala Capitini di Agliana contro Endy Asfaltis-Papo a festeggiare il secondo successo consecutivo. Abbiamo riproposto proprio prima del telegiornale le immagini della partita. La squadra di Tozzi parte soffrendo il tiro e allunga gli avversari, ma dopo aver trovato le giuste contromisure riesce a ritrovare il bando Ramatassa. Nel convulso finale, Alessandro Banchi risolve la situazione e a mantenere momentaneamente immacolato il percorso dei suoi in pool promozione. Si chiude invece con la vittoria di Notte di Siena-Menzana Basketball su Prato per 87-78 dopo una partita tiratissima e giocata con carattere da parte dei ragazzi di coach Betti. Notte di Siena-Menzana Basketball porta a casa due punti fondamentali per il lancio e il proseguo di questa seconda fase della pool promozione. Tra l'altro vi ricordo che chiaramente trasmetterà l'eventuno, l'integrale anche in questo caso della partita della Menzana Basket. E chiudiamo il TG come ogni giovedì con la rubrica dedicata ai libri a cura del professor Francesco Ricci. Sentiamo allora i suoi consigli. Le rumorose manifestazioni che si sono tenute in America nell'estate del 2023, manifestazioni di sceneggiatori, autori, attori, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica come nuovo tema l'intelligenza artificiale, i suoi rischi, le sue potenzialità, in particolar modo di quella che tra le intelligenze artificiali generative è la più famosa chat GPT, vale a dire quella macchina capace di dialogare con l'uomo a suon di domande e di risposte. Ecco Daniele Magrini, proprio all'intelligenza artificiale, dedica il suo ultimo libro pubblicato da prima media e intitolato appunto l'anno dell'intelligenza artificiale, poiché proprio nel 2023 l'intelligenza artificiale è uscita come argomento dal ristretto ambito degli specialisti per coinvolgere, interessare e anche preoccupare un largo pubblico. Vero è che il cammino che ha condotto all'intelligenza artificiale viene da lontano, viene dagli inizi del terzo millennio, in particolar modo da quella saldatura, da quell'alleanza tra smartphone e social. Quando per la prima volta abbiamo capito che di fronte alla tecnologia, come ci insegna Günther Anders, la domanda da porsi è non cosa possiamo fare noi della tecnologia, ma che cosa la tecnologia può fare di noi. E dunque un saggio, quello di Daniele Magrini, estremamente equilibrato, relativo alle prospettive positive ma anche negative che l'intelligenza artificiale sta schiudendo. Buona lettura. anche di sanità in Toscana, quindi tanti temi che affronteremo insieme al direttore Toscana Notizie. Vi aspetto quindi fra poco dopo il break pubblicitario.